Mi hanno mandato una clip di Tifa Lockhart di Final Fantasy che fa cose, vi lascio immaginare cosa, durante un meeting del Parlamento Italiano. Salsa in descrizione comunque perché non so quanto potrò mostrare. Per una PA trasparente, esatto, più trasparente di così. Ma se vi sto aggrippando, questa era. Ma che cosa? Gli italiani, eh?